Bella raga e benvenuti in questo nuovo video. Mi verrebbe proprio da dire ci voleva questa benedetta quarantena per poter battere i record mondiali di prima 2000, poi 19, qualche tempo fa Airflare e adesso addirittura The Album Track con un gomito. Chi pensato un po' questo record era rimasto imbattuto dal 2013 ed apparteneva a B-Boy Lil G dal Venezuela. E adesso un ragazzo del Perù, B-Boy Alexis, di 13 anni, è riuscito a batterlo. Lo so ragazzi, incredibile, incredibile davvero. Io sono riuscito a farne due e fidatevi, arrivare a 9 Album Track con un gomito è tanta tanta roba. Concludo dicendo che se il video vi è piaciuto ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like e commentate qui sotto. Peace!